è notte, mi è tornata la febbre, sto massacrato ho fatto un video oggi in auto tra parentesi ma è troppo rivoluzionario comunque faccio questo video perché è stato attraversato l'antart la gente che va dicendo, oh adesso finalmente fate i vostri mestieri allora ha stato l'antastico, vabbè andiamo al buco vai questo è quello che ha attraversato, lo vedete, lo vedete qui lo vedete, eccolo qui quello che ha fatto in realtà ma roba da pazzi, roba da pazzi avete capito, che ha fatto in realtà, mo ve lo faccio vedere meglio ve lo faccio vedere meglio, e no perché qui siamo alla follia ragazzi ma come si fa ancora con queste cose eccolo qua, quasi l'ho fatto, questo è quello, vi ricordate l'istituto luce che vi dicevo lo vedete, che è questo qui, quel pezzo che vi ho fatto vedere, eccolo qui è andato, avete capito, men croce grazie a tutti